Salve a tutti e bentornati sul mio canale, prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti per il sostegno che ci state dando perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno e vi chiedo di continuare a supportarci con il mi piace, commento e l'inscrizione per voi è tutto, grazie ma per me è fondamentale perché ci va a crescere come canale in questo nuovo contenuto vogliamo fare qualcosa di strano vogliamo fare le petitions dei gruppi di Euro 2024 chi passerà come primo, chi passerà come seconda ma soprattutto chi saranno le quattro migliori terze è qualcosa di strano ma io voglio sapere poi sotto nei commenti la vostra idea se quello che abbiamo detto vi piace oppure no se una squadra che noi indichiamo come migliore prima non vi piace oppure arriva come terza però voglio sapere il vostro pensiero sotto nei commenti e vi chiedo anche di supportarci nel secondo canale di One TV Extra dove parliamo di tutto tranne che di calcio e nei nostri canali social tutto quello che creiamo è creato da noi vi raccomando attivate la campanella così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto arriverà la notifica sul vostro cellulare e allora partiamo con questa prediction del gruppo di Euro 2024 gruppo A è composto da Germania, Scozia, Ungheria e Svizzera io penso che la Germania passi come migliore prima questo girone lo stravince, non lo vince, lo stravince perché squadra ospitante non può non superare il girone e il secondo di questo girone sarà la Svizzera che secondo me arriverà come seconda forza di questo girone e andiamo nel girone B dove c'è l'Italia è uno dei due girone di ferro ed è composto da Spagna, Croazia, Italia e Albania e abbiamo Spagna come prima per me la Spagna vince il girone, non facilmente però lo vince ma se occhio all'Italia, l'Italia passa come seconda un'Italia che può fare la differenza, un'Italia di Spalletti che può dire la sua e io sono convinto che passerà questo girone però lo passerà come seconda forza e andiamo nel girone C dove c'è Slovenia, Danimarca, Serbia ed Inghilterra l'Inghilterra questo girone lo passa in Giabatte lo torno a dire l'Inghilterra passa questo girone in Giabatte secondo me vince tutte e tre partite lo dico subito, tutte e tre partite le vince l'Inghilterra e come seconda io vedo la Danimarca la Danimarca in queste competizioni europee dà il meglio di sé e abbiamo visto che la Danimarca se parte convinta può dire la sua per me passa come seconda l'altro girone di Ferrero è il girone D con Polonia, Olanda, Austria e Francia per me questo girone lo vincono i Orange l'Olanda vince il girone non facilmente però lo vince e seconda forza è la Francia qualcuno mi dice come la Francia vince il campione d'Europa lo squadrone, la squadra da battersi però vedo una squadra, una Francia in questo momento non una squadra unita vedo tante individualità però può fare la voce grossa però in questo girone non la vedo la squadra che può davvero vincere questo girone io vedo più compatta l'Olanda però passerà come seconda del gruppo E è formata da Belgio, Slovenia, Romania e Ucraina se l'Inghilterra ho detto che passa questo girone in giabatte il Belgio lo passa con cappellino, occhiali da sole e sigaro tipo o Ancellotti quando festeggia un trofeo perché ultimamente vediamo spesso più così Ancellotti che da allenato perché? Perché alla fine vince sempre lui vince sempre Ancellotti e io sono convinto che il Belgio passi questo girone in questo modo con cappellino, occhiali da sole e sigaro e come seconda forza di questo girone vedo la Romania la Romania è una squadra che gioca a calcio una squadra che nelle qualificazioni ha fatto davvero cose positive e allora occhio alla Romania per me la Romania passa come seconda del gruppo F fu composta da Turchia Giorgio, Portogallo e Repubblica Ceca il Portogallo di Cristiano Ronaldo e di tanti altri campioni passerà come primo e la Turchia di Vincenzo Montella passerà come seconda perché penso che la Turchia è nettamente più forte sia della Georgia che della Repubblica Ceca e allora vediamo le squadre che passeranno come prima sono Germania Spagna Inghilterra Olanda Belgio e Portogallo e Portogallo come seconda Svizzera Italia Danimarca Francia Romania e Turchia mancano ancora quattro squadre come abbiamo detto oltre alla prima e alla seconda passano anche le migliori le migliori quattro terze e vediamo chi può passare come terza nel girone A Scozia e Ungheria per me non passa nessuno delle due come migliore terza nel girone B abbiamo la Croazia qui io posso dire che la Croazia passerà come migliore terza ma che mi piace è una Croazia che farà tanti punti contro l'Albania e secondo me toglierà anche qualche punticino all'Italia però passerà come terza migliore terza nel gruppo C abbiamo Slovenia e Serbia e i Serbi passeranno come migliore terza perché è una squadra che è compatta a tante individualità e può davvero diventare come una migliore terza nel gruppo D dove c'è il gruppo di ferro di questo europeo abbiamo Polonia e Austria io dico che la Polonia che tanti giocatori sono all'ultima chiamata l'ultima grande occasione per portare la Polonia in alto la Polonia passerà come migliore terza nel gruppo E abbiamo Slovacchia e Ucraina in questo gruppo l'Ucraina sarà l'ultima delle quattro terza che passeranno nel giorno invece Giorgio e Repubblica Cerca non li vedo in questo momento che possono dire di giocarsi la possibilità di passare come migliore terza e allora ripetiamo le migliori quattro terze secondo me secondo la The One TV sono Croazia del girone B la Serbia del girone C la Polonia del gruppo D e l'Ucraina del gruppo F e scusate allora questa secondo me può essere la prediction dei gruppi dei gruppi di Euro 2024 vorrei sapere cosa ne pensate voi se davvero la Germania passa come prima se davvero il Belgio come ho detto passerà tipo a Ancelot quando festeggia una Coppa come primo se l'Italia avrà una possibilità davvero di passare come seconda se la Spagna passerà come prima ma soprattutto se la Georgia di Karaschkega addirittura sarà eliminata al primo turno c'è tante novità ma soprattutto l'Austria secondo voi davvero uscirà completamente da questo europeo il girone signori questa è la mia prediction secondo me finiranno così i gironi ora voglio sapere voi cosa ne pensate di questa mia prediction se vi piace oppure no se c'è qualcosa da cambiare oppure no se siete d'accordo oppure no sotto nei commenti vi raccomando appena ci saranno tutti i tabelloni dagli ottavi in poi li faremo anche la prediction degli ottavi fino alla finale poi quando finirà l'Europe e avremo qualche qualche giorno libero rivedremo le nostre prediction vedremo quante ne abbiamo sbagliate nei gruppi quante ne abbiamo sbagliate negli scontri diretti ma questa è la cosa bella del calcio che uno prima che inizia una competizione può dire quello che può succedere può dire le cose sbagliate ma cose giuste però una cosa è sicura noi ci esponiamo e con questa prediction ci siamo esposti a una bella figura puntini puntini sotto nei commenti ditemi la vostra ciao ciao